Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono qui di nuovo tornata con mia cugina e ho deciso di aprire una nuova rubrica, ovvero in segreto la prima parola che andiamo a cercare oggi sarà il gioco del momento, ovvero The Floris Lava se avete qualche parola che vi suggerisce, scrivetelo qui sotto nei commenti e di conseguenza lo andrò a cercare in un prossimo episodio allora, donne di 14 anni, eravamo al campo e una ragazza urla The Floris Lava e nessuno si muove perché eravamo dell'idea che fosse un gioco stupido tutti i terni a Francesco, l'animatore di 15 anni, il più piccolo degli animatori che si albicò su dei tappeti attaccati al muro cadde lui e i tappeti anche e con tanto di cadastro della palestra fu licenziato e ci crede, l'animatore che si va a prendere i tappeti appresi al muro mentre giocavo alla The Floris Lava con i miei amici sono caduta e mi sono rotta una gamba che effettiamo? bene, è molto fortunata sta ragazza, avvicinati allora, uomo di 21 anni, io davvero non capisco qual è stato il processo che ha trasformato The Floris Lava da un gioco a frutto dell'immaginazione di bambini di 6 anni ad un gioco di massa affermato ma che segreto è? non è un segreto non è un segreto The Floris Lava! mettete la faccina che servite se siete... The Floris Lava! ok, io mi sono salvata e Michela no! mi sono salvata ok, dai Michela, vieni ma è su con la vita, madonna sei morta dai! che hai il tappeto? aia! 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 giocavo con una mia amica The Floris Lava, c'era una piscina e mi sono buttata il tappeto nella pelle ma dove è stato il tappeto? quando? zone quando? zone in segreto eeeeeeeeeeeeeeeeeee due di 16 anni, ieri sera dopo aver letto aver detto The Floris Lava alle due mie sorelle nessuna ha riadito ma quando giocano uno di loro ma quando giocano insieme e uno di loro dice all'altra The Floris Lava si divertono tantissimo quando io dico qualcosa non mi ascoltano non mi ascoltano eeeeeeee e quale dico perché non lo so legge? ma come scrive? allora questo è uno sfogo di una ragazza di 16 anni esatto vabbè il segreto comunque è la come è su perciò che siamo noi eeeh dice che lei mentre una sera dice The Floris Lava eeeh le sue sorelle non lo ascoltano invece quando una delle due sorelle lo dice gioca del Floris Lava gioca del Floris Lava si divertono tantissimo era così ok dai passi alla prossima eeeh che stai facendo? nooo che stai facendo? sto morendo no mi telefono sto andando sto andando stiamo a ricalli ricandolo per la sinistra la connessione fa schifo quella di sinistra carichi carichi vabbè ragazzi ci vediamo quando si carichi perché poi passano 30 anni Ok ragazzi, dopo tre anni ma si è caricato ovviamente. Donna di 14 anni, mentre stavo giocando a De Florislava, una mia amica di proviso non l'ho. De Florislava, io che ero in un parco saltai su una panca, ma cadi per terra mentre passavo un mio amico, che adesso non lo smette di prendergli un giro. Aiuto. Che figura di M. F di M. Se seguite, come si chiama? Nadia Tempest. Se sapete di cosa si tratta. Se anche tu giochi a De Florislava Challenge, sei solo uno stupido perché fai tante FDM. Io ci sono passata. Allora non è che se tu fai tante FDM la possiamo fare tutto il mondo. E' quasi, ma anche come risolta. Anche se a te non ti deve interessare del giudizio degli altri. Ah so. Perché se tu fai quelle cose, vuol dire che ci stai bene a fare quella. E se ti diverti che ci fai. Per in testa, quello che mi ha fatto fare è un po' io. Senti. Allora. Ehm... 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 Ehm...